I calabresi debbono valorizzare se stessi eliminando essi stessi le proprie criticità. Non può calare dall'alto la soluzione dei loro problemi. Ognuno nel suo ambito operativo deve cercare di promuovere la legalità, ma come ho detto non una legalità decrepita, ma una legalità innovatrice che tenga conto di quelle che sono le reali esigenze che insistono sul territorio. Il diritto penale non deve essere la panacea di tutti i mali, ma l'extrema razio rispetto ad una politica criminale che deve svilupparsi all'interno delle istituzioni della società civile e le istituzioni politiche regionali e nazionali.